Bentornati alla nostra partita Inter-Empoli Siamo alla fine del primo tempo 2-0 per l'Inter Ovvero per me Ho la videocamera storta Siamo pronti per riniziare questa partita Tocca l'Empoli Tutto pronto? L'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara Avevo fatto gol con Icardi e Vecino Oh l'Empoli mi sembra più Invece Raga mi sta la gialla No dove cazzo l'ha tirata? Buona la lettura del difensore Su un brutto passaggio Che resta in sta roba? Provano a aprire la scatola difensiva Raga! No! E c'è la presa sicura del portiere Provano poi in pressica a recuperare il pallone Pallo 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 Pallone 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 Per questo intervento duro ed evidente Vediamo se c'è la faccia sicura Raga la ingolante Brozovic Vai, 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 vai Passa, 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 passa Tira! Prova No, tira! Grande tempismo da parte del difensore Intervento spettacolare Si dico in serio che non si può rimagliare a fare Nooo Dai! Acqua Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Baragna metri Tira! Palla che rotola a giallo Dai, io però voglio non farmi ammazzare tutti i giocatori Difensore spazza in qualche modo Acqua Palla in fallo laterale Fallo laterale C'è aria di cambio Acqua Capezzi Caputo Restituisce bene il pallone Oh raga Vendete sta palla Di passaggio ha riconquistato palla Perisic Acqua Acqua Bravo qui il difensore Che legge bene Questo pallone Asamoa Può contare sull'aiuto di compagni No, no, no Antonelli Dai raga No vabbè Prova la botta Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo I compagni lo rimproverano Perché non ha passato il pallone Ha visto uno spiraglio E si è lasciato ingolosire Sperava sicuramente miglior sorte No vabbè Palla buttata via Alletta bene il difensore Passala Miranda Brozovic Occhio Cerca l'area di rigore Ottimo intervento L'ennesimo di questa partita Cosa è successo in questo cambio di tempo Mancano ancora 20 minuti al termine della gara Vessino Maurito Icardi Attenzione a Perisic Spazzano via il pallone Occhio a Nainggolan Ecco Politano Di nuovo Nainggolan Attenzione a Nainggolan E gol E c'è il gol del Linter E chi siamo E chi siamo Nainggolan Linter oggi non vuole solo vincere Vuole stravincere Direi che finora ci sta riuscendo alla grande Gol che ci viene mostrato da altra angolazione Guardalo Guardalo È una gara a senso unico questa ormai Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre Oh Ecco il tiro Non trattiene Occhio alla possibilità Si avvicina la bandierina Per il calcio ad angolo Occhio al pallone in mezzo Grande riflesso del portiere Che dice di no? L'ho vista male, sei sincero Questo era un po' Ancora Ancora Ho tanto Occhio al corner Calcio ad angolo Troppo sul portiere Facile Pericolo, ancora una volta libera lui, palla schizza via dopo il contrasto, palla spazzata via, poteva essere una buona occasione, un altro ottimo tocco, si avvicina all'area, occhi ai cardi, c'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata, ci ha provato dai! Allora, stiamo calmi eh, dai! Madonna che ansia! Perisic Miranda Dai Icardi! Devo cambiare angolazione, io non riesco Caputo Possibilità di contropiede, Antonelli Ripartenza bloccata da un buon intervento difensivo E andiamo! E andiamo! E andiamo! E siamo noi, e siamo noi, la squadra più forte, siamo noi! Si è rivelato azzeccato Rivediamo i momenti clou di questa partita Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio Icardi! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like Noi ci vediamo al prossimo video! Grazie! Grazie!